Alceste Vitri, insignito del sigillo dall'Università di Urbino, questo nome alle nostre spalle pesa un pochino? Credo di no perché è un grandissimo onore per lei avere questo riconoscimento. Ormai dopo 56 anni di proprio e improprio, poi altri 12-13 anni che ho lavorato prima, ormai non mi fa più paura niente. Un po' di emozione c'è perché non sono abituato di fronte agli obiettivi, perciò sono più l'uomo di fabbrica. Però mi fa piacere vedere questi avvenimenti. Anche perché questo riconoscimento l'è dovuto per il lavoro che ha fatto, per l'apporto che ha portato al territorio, per questa straordinaria volontà di essere utile alle persone, quindi non è un caso che oggi l'Università di Urbino le riconosce tutto questo? Sicuramente io ringrazio tanto l'Ateneo qui di Urbino che mi ha dato questa opportunità. Sicuramente ho lavorato tanto, ho fatto tante cose, tante belle cose, però questa è una cosa emozionante perché vivendo sempre tra i progetti, tra la fabbrica, cercare di arrivare agli obiettivi, questo è un bel riconoscimento che non me l'aspettavo. È stata una bella sorpresa. Sicuramente è merito anche, sì mio, però anche di tutta la mia squadra. Questo sigillo che nel passato abbiamo dato a Walter Scavolini, a Alessandra Barronciani, a Selci, a Rupoli, quest'anno lo diamo appunto a Vitri. Sono ovviamente questa una scelta che non fa l'Ateneo da solo, lo facciamo insieme con una commissione di Confindustria che aiuta ad individuare un imprenditore che per la sua storia ha segnato positivamente la realtà economica del territorio. Noi siamo molto contenti di dare questo riconoscimento. C'è una lista lunghissima di personaggi anche internazionali che l'hanno ricevuto e quindi ci fa molto piacere quando riusciamo a darlo anche a qualcuno che è del nostro territorio.